E se sono Alice? Biancolino, prego. Una delle storie da sempre più amate da grandi e piccini, la compagnia del musical lo c'era una volta, portato sul palco del Teatro Impero di Brindisi, Wonderland, uno spettacolo che ripercorre i passi della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, attraverso una riscrittura che privilegia le componenti più spumeggianti della vicenda recitate e cantate. Chi come me è una persona un po' grandicella, ma poi negli anni si vanno a raccontare le fiabe, i trascorsi di questi racconti, quindi Alice Wonderland è conosciuta veramente da un pubblico vastissimo. E c'è stata una bellissima risposta del pubblico? C'è stata una bellissima risposta del pubblico sia questa mattina con i ragazzi, con i più giovani delle scuole medie secondarie che hanno fatto il matinee con lo spettacolo e sia questa sera in prima serata con il pubblico, con tutte le famiglie. Lo spettacolo è stato dedicato all'Associazione Donazione Cellule Staminali ed è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi.